Prende il via il 30 novembre con l'apertura delle casette in piazza 20 settembre il Natale in città 2013. Un Natale sobrio ma da vivere tutti insieme riscoprendone i valori più profondi. Nelle 21 casette di legno si potranno trovare oggetti artistici e da regalo, ma anche prodotti alimentari con degustazione e somministrazione di prodotti tipici. Il clou delle iniziative si concentrerà nelle giornate di sabato e domenica 8 dicembre, con il mercatino solidale e l'altro Natale, presepe in città e numerosi appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini. All'inizio sembrava che ci fosse una polemica infinita, credo che questo format ce lo dobbiamo tenere stretto e riusarlo il prossimo anno spesso e volentieri perché sarà un modo di far capire come la città comunque resiste, la faccia della crisi e riesce alle persone, a noi tutti come cittadini a dare proprio un segno di presenza come comunità che vuole stare insieme e andare avanti. Un lavoro di squadra assieme a sviluppo di territorio, siamo riusciti a riempire ben 21 casette, in modo particolare ci saranno offerti prodotti tipici del territorio, quindi avremo casette di carattere enogastronomico con i pubblici esercizi e le rimanenti casette invece offriranno lo stesso prodotto riferito a Natale. A questo naturalmente si aggiungerà una nuova iniziativa nella giornata, nella domenica del 15 dicembre, fatta con Slow Food, visto che c'è la giornata della terra e anche lì ci saranno delle degustazioni guidate da Cuochi del Friuli Venezia e Giulia, ma anche di altri paesi tipo l'Africa. Il Capodanno in musica tutti assieme in Piazza 20 Settembre, con la filarmonica città di Pordenone, Nicole Pellicani e la Nica Band, con la partecipazione straordinaria di Francesco Bearzatti. Per ulteriori informazioni visitate il sito comune.pordenone.it slash natale. Grazie a tutti.